Buonasera, bentrovati. Vediamo subito quali sono i titoli di oggi. Cogliete la debolezza della misericordia e dell'amore che Dio mostra agli uomini nella natività. È la tenerezza, il tema degli auguri di Natale che il Vescovo di Rimini rivolge ai riminesi. Ritrovato a Forlì il novantenne riminese che era scomparso ieri dalla sua casa di Bella Riva, si era smarrito mentre cercava funghi. Corsa agli ultimi acquisti al mercato coperto stamattina per il cenone della vigilia e quello di Natale, i riminesi rispettano le tradizioni ma senza spendere troppo. Calcio, Biagio Amati a calcio.basket, non denunceremo l'arbitro La Cagnina. Il presidente del Rimini prende le distanze dal team manager Ripoli. Morga e Zanigni sono sul piede di partenza. Problemi con le finestre e con la sicurezza? Se vuoi andare sul sicuro, non rischiare! Chiedi una soluzione agli specialisti della Navac Infissi, al servizio del cliente da oltre 100 anni. Approfitta anche del risparmio fiscale fino al 65%. Della Navac Infissi ti puoi sempre fidare! Conto gratuito per i ragazzi dai 18 ai 26 anni. Scopri vantaggi su Banca di Rimini. Ben ritrovati in studio. È la tenerezza, il tema degli auguri di Natale che il Vescovo di Rimini rivolge ai riminesi per il Natale 2013. Monsignor Lambiasi invita i riminesi a cogliere la debolezza della misericordia e dell'amore che Dio mostra agli uomini nella Natività. L'augurio lo riprendo dalle parole di Papa Francesco che ci ha detto e continua a dirci in tutti i toni non abbiate paura della tenerezza. Il Natale in effetti è il capolavoro della tenerezza di Dio. Dio si è intenerito per la nostra situazione davvero drammatica e ha impegnato suo figlio che è venuto in mezzo a noi ed è venuto come un piccolo bambino che ci desta tanta tenerezza. È una sorta di tenerezza reciproca quella che Dio ha per noi e quello che Dio chiede a noi come un povero mendicante. In effetti se noi ci pensiamo bene il Natale mette proprio risalto questa debolezza di Dio. Dio che è l'onnipotente che ha pietà di noi e sente questo prova, questo sentimento di misericordia viscerale e viene a farci vedere la sua debolezza. Si indebolisce per noi. E' la debolezza della misericordia, la debolezza dell'amore, la debolezza del padre, del cosiddetto figlio al prodigo. E viene poi non solo a darci ma anche a chiederci misericordia e tenerezza nei panni di Gesù bambino. Questo Dio che si fa povero è davvero un mistero sorprendente. Il Natale è il capolavoro di questa tenerezza di Dio e questo ci provoca, ci provoca a tenerezza nei confronti di tutti coloro che ci ricordano la povertà di Dio, la debolezza di questo amore sviscerato di Dio nei nostri confronti. E allora vorrei augurare proprio questo a tutti i cari riminesi, a tutti gli amici, le amiche, a tutti i fratelli e sorelle di questa nostra bella città e di Ocesi. Dire Buon Natale significa appunto non tratteniamo questa tenerezza, lasciamola espandola, lasciamola fluire dal nostro cuore e questo ci aiuterà a vivere il Natale come un mistero che ci rende più umani. E' proprio quello che io vorrei augurare a tutti, a tutti coloro che sono in ascolto, a tutti coloro che ne hanno più bisogno. Vorrei scambiare perché anch'io ho bisogno di dare e di ricevere tenerezza. A tutti questi cari amici, a queste cari amiche che ci stanno ascoltando, vorrei augurare un Natale di misericordia e di vera tenerezza. Buon Natale. E' stato trovato in buone condizioni a Forlì il novantenne riminese di cui non si avevano più notizie da ieri. L'uomo si era allontanato in auto dalla sua abitazione di Bella Riva. I familiari preoccupati si sono rivolti subito alle forze dell'ordine. L'uomo ha raccontato di essere andato alla ricerca di funghi. Aveva un appuntamento con dei conoscenti a Rimini ma poi si è smarrito. È finito in un paese vicino a Forlì dove è stato visto vagare a piedi confuso. È stato soccorso, portato in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente sono buone. Le ricerche da parte delle forze dell'ordine, alertate dai familiari preoccupati, erano cominciate ieri pomeriggio. Ed è finita il pronto soccorso di Riccione la serata in un locale di Misano per una ragazza che intorno all'1.30 è stata portata via dal 118 per le conseguenze dell'alcol. Dopo i controlli che hanno appurato le sue condizioni di salute è stata dimessa questa mattina. E ubriachi erano anche diversi tifosi del Treviso Basket che ieri sera hanno seguito al Palasport Flaminio la gara vinta dalla loro squadra contro i Krebs. Per evitare intemperanze sono dovuti intervenire i carabinieri. Voltiamo pagina per parlare degli ultimi acquisti per il cenone della vigilia e per quello di Natale. A Rimini il mercato coperto di via Castelfidardo è stato preso d'assalto, il pesce l'alimento più gettonato insieme ad altri della tradizione natalizia come i cappelletti, il brodo e il bollito. Ma sempre con un occhio al portafoglio. Vediamo. Cosa si cucina? Ah un po' di tutto, pesce, carne, noi siamo amanti della cucina, sì stasera a base di pesce. Sempre in economia. Perché si spende troppo per mangiare? Si spende troppo per mangiare, questa crisi purtroppo ci ha messo un po' in ginocchio a tutti. È l'unica cosa a cui però non si rinuncia, almeno quello, lo manteniamo. Si mangia pesce di tutti i tipi, in tutte le salse, in tutti i modi. Poi il giorno di Natale si fa la carne, il cappone con il brodo, il classico con i tortellini, proprio classico. Cosa abbiamo venduto di più? Moscardini e brodetto. Si rispagna molto penso perché vengono da Riccione, da San Marino dove ci sono i prezzi molto più alti. Abbiamo fatto l'espessa per stasera, per Bigela di Natale. Cosa ha comprato? Che cosa ha comprato? Corata? Non so come ci chiama questo altro che è molto buono anche. D'altronde siamo a Rimene, città di mare, se non si mangia il pesce che cosa deve mangiare? Senta, che cosa ha comprato di pesce? Che pesce ha comprato? Ho comprato per fare una bella insalata di mare, polipo, cozze, un po' di lumachine, delle seppie, un po' di calamari. Allora, io ho venduto il sugo di pesce, ho venduto le soglie, le branzine oratte, canocchie, languille, dai, è andato un po' di tutto. Porta solo le buste della spesa o decide anche cosa mangiare? La spesa, sì certo. Oggi si mangerà, dunque a pranzo poche cose, la sera ho cenone di pesce. Sta dando via tutto lei, sta dando via tutto. Io finisco quasi sempre, adesso ormai domani è festa, poi c'è il Santostè, bisogna che lo finisca oggi il pesce. C'è la gente che vuole spendere molto, c'è la gente che vuole spendere poco, bisogna avere un po' di robot mista, perché se no io ho venduto lo misto, anguille, non tante, perché stanno, e poi non è neanche caro quest'anno, è un buon mercato. Ma chi è che ha speso di più? Il scontrino più alto che ha fatto? No, mica tanto. 50 euro, sparare. Auguri a tutti quanti, a tutti i telespettatori. Ritorna anche quest'anno Dentro la Natività, il presepe allestito dalla parrocchia di Santa Maria Ausigliatrice e l'oratorio salesiano Alberto Marvelli, con la direzione artistica di Lino di Tommaso e coordinato da Don Pierluigi Algisi. Il presepe racconta la storia di Gesù in quadri a grandezza naturale. L'elemento centrale del presepe è la grotta con il mistero della natività, affiancata da 15 quadri animati da oltre 200 movimenti meccanici, tra manichini, effetti luce e zampilli d'acqua. Tema di quest'anno è l'accoglienza, con la particolarità dei cartelli scritti anche in cirillico. Del presepe fanno parte anche le parabole di Gesù, come il buon samaritano, le beatitudini, l'ultima cena e la trasfigurazione. Il presepe è visitabile tutti i giorni, guidato dai volontari della parrocchia. L'ingresso è ad offerta libera e il ricavato va in beneficenza. A Riccione il giorno di Santo Stefano si cammina e quest'anno si corre anche per solidarietà, per la quinta edizione della Marcia dei Babbi Natale, con la partenza alle 15 dal Palazzo del Turismo. C'è una novità. Invitiamo tutti quest'anno il 26 dicembre giovedì alle ore 15 davanti al Piazzale del Turismo Riccione per la tradizionale camminata dei Babbi Natale e che quest'anno verrà integrata con la corsa sempre dei Babbi Natale che avverrà da Piazzale a Roma. La corsa e la camminata è aperta a tutti quanti. Basta presentarsi i vestiti da Babbo Natale o comprare la pettorina apposta, che i prezzi sono di 5 euro per la pettorina e di 10 euro per il vestito. In 5 anni sono stati raccolti per la beneficenza circa 70.000 euro. Vengono mandati con dei buoni pasto, praticamente per le famiglie bisognose. Ci sono delle persone che fanno del volontariato, si sono messe insieme ed è partito tutto da Paolo Massarente. Ed è partito che è l'organizzatore di questa manifestazione. Poi piano piano ogni anno è cresciuta sempre di più e quest'anno è il quinto anno. Infatti abbiamo dato come nome dammi il 5 e tutto questo viene con una manina che praticamente verrà venduta a 3 euro e ricavato sempre andrà a queste famiglie bisognose. E a Rimini i bambini avranno un capitolo tutto per loro nel programma di Capodanno. Amministrazione Comunale e Cartoon Club hanno presentato le iniziative in programma nei prossimi giorni. Una presentazione a sé nonostante l'evento rientri nel programma del Capodanno più lungo del mondo per sottolineare come ai più piccoli e alle loro famiglie riminesi e turisti si sia cercato di dare un'attenzione particolare. Il Clou, la festa al Palasport Flaminio di domenica dalle 15 alle 21. Un regno fantastico all'interno del Palazzetto dello Sport. Ci saranno tantissime attività, ci sarà dal momento teatrale alla storia che sarà, che durerà tutta la giornata dove i bambini potranno interagire con i loro personaggi, con i personaggi delle fiabe, con le fiabe tradizionali e un mondo fantastico aperto a loro e alle loro famiglie. In programma anche proiezioni in collaborazione con Cartoon Club, venerdì e sabato pomeriggio al Cinema Tiberio e un'iniziativa per la notte di San Silvestro. Tantissimi bimbi, spesso li vedo infreddoliti la notte di Capodanno, il 31, il veglione quindi di San Silvestro, avranno uno spazio dedicato a loro all'interno del Centro per le famiglie, dalle 22 fino alle 2 di notte, con proiezioni di cartoni animati e perle anche di animazione che solitamente non si riescono a recuperare, avranno un momento dedicato a loro al caldo in un posto fatto per loro. Siamo arrivati ai 100 secondi. L'aria fa un regalo di Natale a Rimini. Dopo 19 sforamenti di fila, il PM10 è finalmente rientrato nei limiti. Ieri il livello è stato di 43 microgrammi per metro cubo. Solo Forlì ha fatto meglio. Sei i capoluoghi che hanno sforato anche ieri. Oggi è l'ultimo giorno in cui ai riminesi è chiesto di abbassare il riscaldamento di un grado. Le limitazioni al traffico riprenderanno a gennaio. Come negli ultimi 25 anni, il 26 dicembre alle 11 alla Chiesa della Ressurrezione alla Grotta Rossa di Rimini, si terrà la festa del riconoscimento per gli ex tossicodipendenti che hanno vinto la battaglia contro la droga nelle strutture della Papa Giovanni XXIII. A presiedere la celebrazione sarà Monsignor Claudio Mariacelli, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. A Rimini i consiglieri brunori di Italia dei Valori e Pazzaglia di Selfare Comune chiedono le dimissioni del gruppo dirigente dell'ASP Valloni, accusato non solo di avere già messo nero su bianco la privatizzazione degli asili, bruco verde e cerchio magico, ma anche di essere i responsabili del disequilibrio economico dell'ente, partecipato in larga maggioranza dal comune. Intanto l'amministrazione comunale di Rimini fa sapere che le iscrizioni ad asili nido e scuole materne comunali per il prossimo anno scolastico saranno aperte dal 15 gennaio al 28 febbraio. Il 31 dicembre al Teatro Supercinema di Sant'Arcangelo si celebrerà il passaggio della sala dalla pellicola al digitale. Dal pomeriggio saranno proiettati spezzoni di film celebri. Dopo il brindisi di mezzanotte si prosegue con Ballando sotto le pellicole. Possibilità di cena a buffet su prenotazione presso il circolo cinematografico Dogville. E adesso siamo a riepilogo dei mesi trascorsi nel 2013 e li ripercorriamo attraverso i servizi del nostro telegiornale. Oggi vi proponiamo i fatti salienti del mese di marzo. Nonostante tanti annunci di riprese più o meno parziali, la crisi continua a farsi sentire su economia e lavoro. Prefettura, diocesi e altre realtà del territorio istituiscono un tavolo anticrisi per cercare insieme soluzioni. In questo momento, se non c'è un momento di coesione istituzionale e sociale che vede attorno a un tavolo tutti gli attori principali della provincia perché ognuno ha un settore proprio ovviamente di competenza, non si arriva praticamente alla risoluzione dei problemi. Fa scalpore l'operazione Giano della Guardia di Finanza contro corruzione, riciclaggio e frode. Arrestato anche il segretario dell'Ordine dei commercialisti riminesi, Daniele Balducci. Questa indagine apre uno spaccato, uno scenario abbastanza inquietante perché spesso persone che godono di estrema fiducia da parte delle istituzioni e quindi come tali dichiarate insospettabili sono proprio quelle che dovremmo controllare di più. A Rimini c'è un nuovo fronte che si surriscalda. Santa Giustina chiede la nuova circonvallazione e una viabilità per i mezzi pesanti diretti a depuratore centrale di biogas. La frazione continua a sfogare la sua esasperazione con cartelli al vetriolo contro l'amministrazione. A Rimini sono in molti a dare fiducia alla proposta dell'architetto Marco Benedettini. Anche l'amministrazione lo ascolta in commissione, ma poi la strada sarà quella già tracciata. Politici e istituzioni piangono Valeriano Fantini, amministratore pubblico, poi presidente di Gea Teantea, scomparso a soli 56 anni. Il 13 marzo la Chiesa conosce il suo nuovo pontefice. Anche Rimini saluta Papa Francesco, il primo Papa sudamericano. Questa umanità che straripa in modo libero, spontaneo, non esibito dal Papa è davvero un bel biglietto da visita. Si vede che è persona intelligente, si vede che è persona buona. Ho visto giusto un po' ieri che è la prima cosa che ha detto fondamentale di pregare prima di tutto. Sulla cessione della Rimini Calcio non mancano le telenoveli. Sfuma, quando sembrava cosa fatta, anche l'affare con l'imprenditore Antonio Esposito. Si è spento nella notte tra domenica e lunedì nella sua casa di Riccione Italo Castellani, 75 anni. Giocò fin da giovane nel Riccione e dopo una carriera con Cesena e Pisa è tornato nella Perla Verde prima come giocatore, poi allenatore, quindi dirigente. Da direttore sportivo portò l'Ancona in Serie A nel 92. È stato anche direttore sportivo di Empoli, Ravenna e Padova. Il rosario sarà recitato giovedì alle 20.30 nella chiesa di San Martino in Viale Diaz, dove venerdì alle 15 saranno celebrati i funerali. Le pesanti frasi nei confronti dell'arbitro Lacagnina, che ha diretto domenica scorsa a Rimini-Real Vicenza, sono costate l'inibizione fino al 31 marzo per Agostino Ripoli, team manager del Rimini. Inibizione fino al 28 febbraio alla dirigente accompagnatore Anni Boletti, ammenda di 3.500 euro a Rimini per presenza di persone non autorizzate nello spazio antistante gli spogliatoi. Un turno di squalifica al difensore biancorosso Gasperoni e intanto ieri sera alla nostra trasmissione Calcio.Basket il presidente del Rimini, Biagio Amati, ha detto che non sarà sporta denuncia contro l'arbitro, prendendo le distanze dalle dichiarazioni dello stesso Ripoli. Amati ha parlato anche di mercato e della trattativa con Belfante. Sentiamo. Andando sotto il 3-1, già con un 3-3 era da essere contenti, poi abbiamo voluto provare a vincere la partita, forse era il caso di accontentarsi. Il campionato sapevamo che era stato difficile, quindi non è che noi siamo molto contenti di quello fatto fino a ora, siamo comunque rimanendo nella parte alta, abbiamo avuto un calo fisico principalmente. Rimini Calcio si dissocia assolutamente dalle dichiarazioni che ha fatto il signor Ripoli, ho già detto che noi non facciamo nessuna denuncia, non facciamo assolutamente nulla e poi magari un chiarimento in lega lo facciamo, questo ci mancherebbe. Faremo sentire che Rimini è vivo, presente e esige rispetto come noi rispettiamo tutti, qui non c'è nessun caso Morgan, non c'è nessun caso Zanigni, sui giornali vengono fuori tutti questi casi, i casi qui non ci sono, i giocatori finché sono a tessera di Rimini Calcio, l'allenatore, li ha tutti a disposizione e fa le sue scelte. Sicuro partente Morgan? Sicuro non c'è mai niente, comunque il direttore sportivo penso che lo stia trattando. Con l'Alessandria? Per uno scambio. Con l'Alessandria? Con l'Alessandria? Non lo so, due o tre alternative. Ma anche Zanigni è in partenza? Anche Zanigni in partenza, sì sì. Sicuramente abbassare il numero di giocatori che sono troppi, anche perché insomma non vengono impiegati, poi è giusto che i ragazzi facciano la loro strada, perché è inutile stare lì, centrocampo, davanti, direi che sono i ruoli dove c'è da rivedere qualcosa. Va avanti la trattativa con Belfanti o si può ritenere chiusa? Ripeto, la trattativa con Belfanti non l'ho portata avanti io in prima persona, quindi oggi Belfanti non c'è più. Mano pesante del giudice anche in casa Bellaria, inibito fino al 21 gennaio il direttore generale Ulizio. La puntata di Calcio.basket, della quale avete appena visto uno stralcio, sarà replicata su Icaro Sport, canale 211, questa sera alle 22.40. Per noi è tutto, vi ringraziamo dell'attenzione e da parte della redazione e dei tecnici di Icaro TV, Radio Icaro, NewsRimeri.it l'augurio vero di una buona vigilia e di un buon Natale.